Beh, conta che tanto per dirti il 90% del pubblico dei live è composto da musicisti a sua volta o aspiranti tali, quindi è tutto un discorso legato al fatto che fondamentalmente i musicisti vanno a vedere i live degli altri musicisti e tra di loro alla fine appunto non può esserci altro che critica. Rock TV, in onda su Sky, canale 718 e in free streaming su tutti i device su livestream.com slash rocktv slash live